Fatica ragazzi, siamo a 1824 metri d'altezza, guarda qua, ma lì ci sono una marea di funghi, là, ce n'è ancora uno, ve lo lasciamo, però questo, guarda qua, che bello, quanto amaro, adesso, guarda che bello, lucido, bellissimo, bellissimo, bello, bello, questo ve lo faccio senza parole, ma che bello, tac, guarda, 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 è la bomba, è qua, proprio qua, la bomba, quelli sono là, tutti, e questo, è qua, guarda qua, volevo farvelo senza parole, però, ecco, bellissimi, raccogliamo solo quelli più belli, perché ce n'è la marea, tutti i porcini, guarda, questi bisogna raccoglierli, guarda qua, guarda, guarda qua, guarda qua, guarda qua, bellissimi, guarda qua, che bella roba, guarda qua, guarda, è giù, uno, due, tre, quattro, guarda che patata, ma guarda dove si è infilato questo, qua sotto, guarda qua, cinque, Come fosse andata dal parrucchiero, guarda. Estetista del Porcino. Chiamiamo questo video. Che bellissimo. Estetista del Porcino. Guarda che bello. Guarda una bollettina. Bella. Ma che bello. La natura è meravigliosa. Adesso andiamo qua. Guarda questo. La spugna è ancora bianca. Questo dobbiamo fare. Bellissimi. Che spettacolo. Belli. Andiamo a fare anche quelli. Sì. Ma ci vediamo una cosa. Anna. Fantastico. Ok. Ok. Guarda qua. E' bellissimo. Questo è un po' mangiato. Ma facciamo solo l'altro. A lato qua. Che più stupendo. L'altro lo lasciamo. Ma che belli. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. E' bellissimi. Giusta misura. Giusta misura. Profusa.